Benvenuti in questo video, sono Gianni95, questa è OnlyUp di Fortnite Creative Siamo qui nel 14esimo episodio, perché allora vi spiego subito che non vi completo la mappa completamente Infatti questo è l'ultimo episodio, il 14esimo, e ve la vedrete senza averla completa la mappa Perché non posso giocare più in un tot di tempo, quindi mi sono andato a stoppare La mappa non salva il tuo raggiungimento del checkpoint, quindi mi toccarebbe rifarla dall'inizio Quindi se volete ve la rifaccio in live più avanti quando raggiungiamo l'obiettivo L'obiettivo sarebbe arrivare a 4000 ore di visitazione in un anno Quindi se voi fate 4000 ore in un anno, io riesco a cambiare il mio programma, il mio stile Perché appunto vi porto le cose con più tempo, ho più tempo per poter registrare le cose Visto che comunque guadagno da YouTube, però finché non guadagno non posso portarvi le mappe complete Se il giorno non ho tanto perché non posso giocare più in tot Quindi io spero che comunque vi vada bene, spero che abbiate capito tutto quello che vi ho detto adesso E noi ci vediamo ad un prossimo video Che non sarà questa mappa perché questo è il giorno dell'episodio E io spero che vi sia piaciuto lo stesso anche se non l'ho completato al 100% Però avete capito la motivazione Noi ci salutiamo, quindi mi raccomando like, commenti, condividere e iscrivetevi al canale Guardate soprattutto i video che sono molto molto importanti A presto Ma se mi mettevi un checkpoint alla torre, non era meglio? Calami Guardate Ultimo tentativo, perché dopo devo andare Vedete che non posso giocare oltre un tot di tempo, quindi Quindi è per questo che uso il checkpoint, se no Sarebbe impossibile registrarlo Eh, io sono una persona normale Chiedo solamente di farmi concentrare e fare questo coso Ok, stavo per cadere due volte Ok, non c'è la... la season 10 è il finale Quindi Ok, quindi Dai però Dai però Ok ultimo è tentativo L'ultimo è che dopo devo spegnere Quindi Quindi vi tenete fino alla season 9 Non vi farò vedere Il raggiungimento della season 10 Se volete vederlo dovete Guardare di più i video E aiutarmi a guadagnare di più Perché io non posso vivere così Quindi Questa parte ormai l'ha capita E dopo E là dove c'è il bagno Che è un casino Perché ci sono i salti che sono troppo precisi Se tu ti aggrappi Lui ti spinge in avanti E salti giù Quindi cioè Non avrebbe un senso Io fino alla season 9 ve l'ho fatto Quindi ammirate Apprezzate Io non andrò più avanti di così Perché devo spegnere Quindi Ci salutiamo Eh purtroppo Non posso giocare limitatamente Se guadagno da youtube Allora posso giocare di più Ma visto che non guadagno niente Non mi permettono di giocare di più Quindi È anche colpa vostra Oltre che colpa mia Perché Non sono abbastanza bravo per voi A quanto pare Ci ho messo più di due ore A raggiungere questo punto Se almeno qua mettessero Un pavimento Così eviti di cadere No invece no Lascia un buco Un bel buco in mezzo Che Non importa nessuno Oh se cado basta Ve lo ripeto Se cado basta Perché non posso giocare più di tanto Quindi Vi dovete Far bastare Ok 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 No L'unico modo È aggrapparsi direttamente là Ok Ce l'ho fatta Allora Adesso Devo salire su questo bordo E poi saltare qua sopra Ok Allora guardate La fine è lì La fine è quella casa lì Quindi Anche se non l'ho raggiunto Io sono arrivato A quei cosi che stanno lì in mezzo Che volano E quindi è già abbastanza Quindi Non è Questa è l'ultima volta che provo Perché dopo devo spegnere Purtroppo devo spegnere Quindi Ci fermiamo qua Qua faccio il salto diretto Ok Ma Dio santo E ho detto che Dio è santo Io sono arrivato lì Tu hai cinque cose luminose Basta però Io non vado più avanti Cioè potrei provare Potrei provare altre volte Se guadagnassi da youtube Che me lo permetterebbero Altrimenti ragazzi Cioè io vi devo portare Quello che riesco Le macchine sono Una delle parti più facili Adesso arriva il difficile Ecco Questi cosi qua Non ci hanno l'itbox Bene assegnata Dopo devo salire Sui canestri Non ci credo Vabbè io sono arrivato qua Guardate che punto Sono arrivato A 1385 metri Quindi Il mio lavoro L'ho fatto Vi ho portato questo E Non posso fare altro Io vi chiedo scusa Ma Non riesco proprio Quindi Nel caso Ci salutiamo Ritornerò Al livello 9 E poi dopo Finiamo la registrazione Tanto vi ho portato Quasi tutta la mappa Mi manca solo questi salti qua Il finale Praticamente Il finale C'è la season 10 lì O lì in alto Lì forse Mi manda lì in alto Non lo so Vabbè comunque Fino alla season 9 Sono arrivato Quindi Io sono già che contento Così Il vestito Non aiuta No Basta 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 ci fermiamo qua Season 9 Finito Ci fermiamo qua Abbiamo raggiunto la season 9 Abbiamo fatto metà della season 9 Siamo arrivati quasi alla casa Però lì Di quei blocchi là sono Fatti male Quindi non posso Come ve lo posso dire In aramaico non posso Potrei stare qua ore e ore A provare e ci riuscirei probabilmente Ma dovrei stare qua molto tempo E non posso giocare più in un tot Sono già fuori dal tempo di gioco E quindi Mi devo stoppare qua Se mi stoppo qua non mi salva qua La prossima volta Potrei provarci un'altra volta ma non mi salva Non credo mi salvi un'altra volta Io rimarrò comunque A livello 1 Ricominciare dall'inizio quindi non voglio Ricominciare dall'inizio Cosa che è stata molto difficile Arrivare fino a qua E arrivare Quasi a quella casa là in fondo E niente Vabbè dai Spero che tutto quello che vi ho portato Vi sia piaciuto Se volete Che vi porto le cose Complete Che ci provo di più Dovete impegnarvi anche voi Quindi Questo è un video che rimarrà sul canale Per mostrarvi che appunto C'entrate anche voi Dovete fare il possibile per guardare i video Perché se più voi guardate i video Più riesco a guadagnare Quindi dovete Dovete fare la vostra parte Quindi ci salutiamo Quindi va bene dai Like Commenti Condividere Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video A presto